Valentino Granvillano, è soddisfatto della riunione avuta con l'amministrazione comunale in merito ai nuovi orari della ZATL? Rai rappresenta il consorzio Gelo Centro e più volte ha sottolineato che quegli orari bisognava cambiarli. Assolutamente sì, riteniamo che si sia raggiunto un alto livello di democrazia dove la politica gelese ha dimostrato che quando vuole può accantonare faziosismi di sorta e insomma dedicarsi a dare risposte certe. Una ZATL che andava rimodulata, adesso avremo dei nuovi orari che sono dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21.30 e il sabbio della domenica dalle 16 alle 24. Questa proposta di potenziarla nel fine settimana è una proposta che viene proprio dal consorzio Gelo Centro dove riteniamo che il centro storico debba essere vissuto da un passeggio destinato alle famiglie ed è quello che noi vogliamo e ci auguriamo insomma di poter portare. Sicuramente va anche attenzionato oggi la poca fruibilità del centro storico ed è per questo che abbiamo chiesto una rimodulazione della ZATL. Ci auguriamo successivamente di poter intraprendere altre azioni con l'amministrazione per cominciare a parlare di una maggiore fruibilità del centro storico. E questo nuovo orario da quando sarà attivo? Questo nuovo orario ci hanno promesso che l'ordinanza sarà immediata quindi ci auguriamo che dovrebbe essere forse anche nella data odierna già emessa e di conseguenza pubblicata e già dalla fine settimana quindi da questo sabbato dovremo avere i nuovi orari. Su questo attendiamo il sindaco, logicamente non compete a noi. Ed è chiaro che così facendo l'auspicio, l'augurio da parte vostra, da parte dei commercianti che realmente qualcuno almeno sotto la festa di Natale possa entrare nei vostri negozi e possa acquistare. Il commercio è assolutamente un settore molto particolare soprattutto in questo periodo. I commercianti del centro storico di loro stanno cercando di rivalutare con delle azioni anche personali e quali quella di un'animazione tutti i sabati e tutte le domeniche destinate sul centro storico alle famiglie, ai bambini in concerto con quanto l'amministrazione di suo sta facendo. È chiaro che non basterà soltanto questo ma noi ce la mettiamo tutta.